Prego, con un certo entusiasmo. Questo è il prototipo con il quale il team del Politecnico e della Fondazione Politecnico di Milano hanno partecipato allo scorso maggio all'ultima edizione della Scela e Comandata, stabilendo in quell'occasione il nuovo regolo italiano di efficienza energetica. Infatti questo veicolo ha percorso l'equivalente di 2741 km con un litro di benzina. Il nostro prototipo è realizzato, costituito da una scocca portante in fibra di carbonio, ha una configurazione con tre ruote, due all'anteriore e una posteriore sterzante e motrice. Il propulsore è un motore elettrico alimentato da una full cell a idrogeno. Il gruppo trasmissione è integrato all'interno della ruota, come si usa fare anche negli ultimi prototipi di veicoli ibridi e elettrici che sono sul mercato. Ha un'aerodinamica molto spinta, studiata per opporre la minima resistenza all'avanzamento e tutti i sottosistemi del veicolo sono stati progettati e ottimizzati proprio per ridurre al minimo quelli che possono essere riconosciuti.